Scontro frontale tra due auto questa mattina a Fano in via De Gasperi, la strada che corre parallela alla ferrovia a Baia Metauro. Uno dei due conducenti ha riportato feriterievi giudicabili dai medici del pronto soccorso di Fano in sette giorni. Per ragioni ancora al vaglio della polizia stradale intervenuta sul posto, le due auto che procedevano in sensi di marcia opposti, una Mercedes classe A condotta da un fanese di 30 anni ed una Volkswagen Polo allo cui guida si trovava un 32enne del posto, sono entrate in collisione forse per un abbaglio di sole che avrebbe impedito al conducente della Polo di accorgersi della classe A che stava sopraggiungendo che ha così iniziato una svolta a sinistra e una traversa laterale. A quel punto l'urto tra i due veicoli è stato inevitabile. Sul posto è subito arrivata un'ambulanza del 118 che ha portato in codice verde al Santa Croce il conducente della classe A ed i vigili del fuoco di Fano per mettere in sicurezza le due auto oltre che alla pattuglia della polizia stradale per i rilievi di legge. I due mezzi gravemente danneggiati sono stati rimossi con il carroattrezzi ed il manto stradale. Una volta terminati i rilievi della stradale è stato bonificato dai liquidi del motore che le due auto a causa dell'urto hanno riversato sull'asfalto. Grazie. Grazie.